Più di 400 dipendenti dell'ex provincia di Agrigento hanno assicurato le loro prestazioni nel mese di aprile con il sistema del lavoro agile, una scelta obbligata che il Libero Consorzio sta utilizzando adeguatamente grazie all'utilizzo della piattaforma informatica dell'ente. Il Libero Consorzio attualmente ha una dotazione organica di 540 dipendenti di cui 130 a tempo determinato e 410 a tempo indeterminato. Nel mese di aprile sono stati collocati Smart Working, 444 dipendenti con una percentuale dell'82 a 22%, una modalità lavorativa che permette ai dipendenti di assicurare il funzionamento dell'ente con necessarie limitazioni per quei servizi che prevedono la presenza del pubblico. Giornalmente nel mese di aprile sono stati 88 i dipendenti presenti fisicamente al lavoro, quelli cioè che svolgono lavori indifferibili come quelli del settore infrastrutture stradali, in particolare i tecnici e quelli in servizio sulle strade provinciali e la polizia provinciale. Questi dipendenti rappresentano il 16-30% di tutto il personale. A questi lavoratori si aggiungono numerosi dipendenti che in base ad indifferibili esigenze di lavoro si recano in ufficio per assicurare i servizi in maniera non continuativa pur essendo dipendenti utilizzati. Spiega l'ente in una nota sono stati distribuiti materiali per il contenimento della pandemia e l'ufficio prevenzione ha provveduto alla sanificazione dei locali e dei mezzi in dotazione al personale in servizio. Tra questi la protezione civile del libero consorzio che opera quasi quotidianamente nel territorio consegnando generi alimentari alle famiglie in difficoltà nel territorio della provincia. L'ente, nonostante la chiusura al pubblico, ha provveduto a potenziare i servizi per il cittadino mediante la reperibilità degli addetti agli URP attraverso i numeri verdi del libero consorzio.